Benvenuti in questo mio nuovo video Riconoscete un po' il posto? Beh, sì Sono di nuovo qui sul Restaurant Icon Di nuovo davanti al mio ristorante Per passare un giorno di lavoro Tra virgolette Insieme a voi Quindi iniziamo Allora, come prima cosa Entro a beh E mi dedico subito alla cucina Portando un'insalata greca Al drive-thru Quindi Ora Aspettiamo un po' che arrivano gli ordini E iniziamo Completiamo Questo passaggio Completa E andiamo sempre avanti Ok, è fatto Intanto da qua prendo anche gli ordini Così cerco di sbloccare più piatti Ok Direi che abbiamo fatto i nostri primi tre piatti Ma dobbiamo continuare Sparecchiamo Sparecchiamo quel tavolo intanto Anche se un po' a distanza E prendiamo comunque gli ordini Cuciniamo Intanto voglio andare a vedere sopra Come procede Ok, ok Devo dire che sta procedendo bene Ora, visto che mi sono un po' occupata della cucina Mi occupo un po' del servizio Vediamo Ecco Vado sempre avanti A me non ve l'ho fatto mai vedere C'è questo Che ho aggiunto Per I gelati Quindi Lo aggiungo al menù Aggiungo anche il limone Poi aggiungo Ah beh Il cioccolato Ovvio si deve aggiungere E Cono Vaschetta grande Cono Complichiamo E Dice il nome del piatto Gelato Raccogliamo i premi Comunque ragazzi Questo video è finito Io spero proprio che vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdervi nulla Ciao